Musica E' lo tifoglio, da? Ne, ne. E' lo tifoglio, da? 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 ... ... ... ... sentite al suo rector posto a tutti i più tutti e gar nicht mal interessanti come to me e un lavoro am elferpunkt fast schien Il primo è stato molto vicino. Grazie a tutti. Schön. Grazie a tutti. Sorry. 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 non è vero Esco Eh dai Ciade Ciade Dio Amin no 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 oh hai visto no sì da ho io la città holy shit Sì, non lo so Sì, non lo so Sì, non lo so come i pesa in geek in the rainbow Non c'è fordere, non c'è fordere, non c'è fordere. Non c'è fordere, non c'è fordere. Non c'è fordere, non c'è fordere. Non c'è fordere. Non c'è fordere, non c'è fordere. 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 L'avventura. Ach, warum wird'n' der jetzt so lang extra zweimal gedrückt? Egal. Scheißdruck. Vielleicht hätt'ich L1 dazu nehmen müssen. Apport blocca mi fuori Non c'è un pollo, eh? Non c'è un pollo, eh? Non c'è un pollo, eh? No c'è un pollo, eh?